Grazie a tutti, per l'altro. Ettore, devi placcare le persone, tipo questo, vai in un anno di ammazzare. Ma che parti male, tu ci vai a pugno spianato. Anche perché fra tre minuti l'ultimo che rimane in mezzo ha perso, paga la birra a me. E' la mia, la mia, la mia. Sua, in mezzo, ragazzi, non bariamo mai. Ah, mi piace. Ahiaia, devi essere meno teso, perché lui è alto e veloce, e più preciso, perché non è lui. Lui potrebbe fare i bagger a terra, ma il bagger a terra non ci arriva comodo a più. Oh, ehi, niente. Caterina, vai. È il tuo cuore, ragazzi. Vai. Attenzione, attenzione. Caterina, devi muovere, ti andiamo. Ettore, apprezzo, ma devi andare. Ultimo minuto e venti secondi. Puccato. Quello è molto bello. Studiali, studiali, non può fare altro, è tuo. Che meditabondo che sei, mi piace. Fatte che le finte con l'ancio ti ho visto. Ormai è veramente un gioco evoluto. Allora, io ho visto uno saltare sulla scheda di un altro a questo punto. Se volevi farlo, io apprezzavo. Andiamo. Ultimi 40 secondi. Chi rimane nel mezzo, paga la birra a meno, ripeto. Apprezzo Cristian, ma devi andare nel mezzo. A posto. Ragazzi, non ci guardate, ma la dai a lui, perché davvero. Andiamo. Ultimi 20 secondi. Hai 17 secondi per raggiungere il tuo obiettivo. Pietro, hai 15 secondi per uscire da lì. Tranquilo, non è importante, eh. Hai 9 secondi e 30 centesimi. Katia, hai 7 secondi e 30 centesimi. Ma lo blocco ogni volta che si ferma il pallone, non so mica merdoso. Attenzione, hanno trovato lo schermo. Katia, Katia, tu! Hai 79 centesimi per uscirci. Possiamo andare? E non ce l'hai fatta, vi faccio. No. Ma lo blocco ogni volta che si ferma il pallone, non so mica merdoso.